era la salita in camera di un nostro cliente prima di lei ci sono state tre vittime tutte prostitute che cosa si ricorda ha detto che è stata inseguita in macchina la riabilitazione ti renderà autonoma cosa vedi una ragazza che corre con le corone bianco patteggiato cosa un furgone bianco patteggiato l'unico sopravvissuto il bambino di dieci anni che si trova in un istituto d'accoglienza posso aiutarti è il furgone bianco hanno ammazzato due polizonti davanti a casa attraversa